Il primo classificato in assoluto concorso Olivarium 2021, azienda agricola Quinto Angelo, riceve il premio Angelo Quinto. Va all'azienda agricola Quinto Angelo di Montalbano Ionico il premio Olivarium 2020-2021, quale miglior olio extravergine prodotto in Basilicata. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Corte della Masseria Parco dei Monaci dell'ente Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano. L'olio dell'azienda agricola Quinto Angelo di Montalbano Ionico è stato selezionato anche tra i 18 oli valutati come eccellenti dal comitato di assaggio e dal panel regionale del concorso Olivarium 2021, giunto quest'anno alla sua 17esima edizione. Provenienti da tutta la Basilicata, gli oli valutati come eccellenti. Per il metapontino è stato selezionato, oltre all'olio prodotto dall'azienda Quinto di Montalbano, anche quello dell'azienda GND di Giuseppina Doronzio di Colobraro. Sugo dorato del nostro lavoro. Brillano e luccicano come promesse le cinque gocce, le tue cinque esse. Sole nel cielo che ti dà calore, sale del mare che ti dà sapore. Sassi nel suolo che dolce ti avvolge, solco d'aratro che ti capovolge. Scure dell'uomo che taglia e che toglie. Cadono foglie, cadono olive. Cadono foglie, cadono olive. L'oliva muore, ma l'olio vive.